Esordio del GP di Miami e ritorno dei recent podcast tradizionali dopo essere stato a Imola a vederlo dal vivo torniamo nel format più tradizionale per parlare dell'esordiente appunto GP degli Stati Uniti in terra di Florida in un circuito cittadino ricavato dal parcheggio del Hard Rock Cafe Stadium dei Miami Dolphins di NFL un circuito cittadino che per la verità come layout non mi è dispiaciuto la gara in realtà non è stata eccezionale per usare un eufemismo possiamo dividere comunque la gara di ieri in due grandi macro eventi prima della safety car al 42esimo giro e dopo la safety car del 42esimo giro ma andiamo con ordine e partiamo da quello che è successo perché pur non essendo stata una gara eccezionale in quanto su queste Formula 1 il layout del circuito ha permesso pochissimi sorpassi e quei pochi che abbiamo visto sono stati per di fatto le posizioni che non contavano quindi le retrovie quello che c'è stato comunque di importante è capitato in ogni caso alla partenza perché alla partenza vedeva due Ferrari prima e seconde dopo le qualificazioni con un Leclerc che fa un meraviglioso giro di pole position e un Carlos Sainz che invece si riscatta dopo due qualificazioni in Australia e Imola non eccezionali anzi per la verità abbastanza disastrose terzo è Verstappen che però si inventa la gran partenza che sarà poi decisiva in realtà per quanto riguarda la gara perché dall'esterno il piloto olandese sorpassa Carlos Sainz nel frame che vediamo in questa situazione e poi avrà modo di andare alla caccia di Leclerc Verstappen con il primo stand di gara avrà modo di essere superiore rispetto in realtà a tutta la concorrenza perché ok che Carlos Sainz è inferiore a questo Max Verstappen e comunque il pilota olandese si è trovato a partire con un numero veramente da circo fatto sta però che poi una volta liberato di Sainz il pilota olandese ha avuto modo di superare anche Leclerc in un passo gara con le gomme medie sicuramente a vantaggio della Red Bull Red Bull che poi col fatto che accumulerà un sacco di vantaggio nel primo stint avrà modo di fermarsi e uscire davanti a una Ferrari che evidentemente era destinata a finire seconda e terza quantomeno per il primo stint il brivido però ce lo metto in ogni caso Pierre Gasly e Lando Norris appunto al 42esimo giro di qui sopra perché succede un contatto tra i due il pilota francese dell'Alfa Tauri in realtà aveva già dei problemi del suo e deve andare più piano rispetto al ritmo normale fa per allargare una curva tornante una curva di ritorno verso sinistra del GP di Miami il pilota francese che appunto allarga poi rientra in carreggiata nel frattempo sopraggiunge Lando Norris autore fin lì di una gara non eccezionale contatto tra i due alla fine Norris si ritira Gasly è costretto evidentemente a ritirarsi anche lui è evidentemente un errore di Gasly che probabilmente non si è accorto che stava arrivando Norris a tutta velocità fatto sta che per questo motivo c'è una safety car safety car che poteva andare a vantaggio di Leclerc un Leclerc che fino a quel momento era veramente molto distante da Verstappen il vantaggio dell'olandese era di circa 7 secondi e mezzo quindi un vantaggio in queste condizioni non recuperabile una safety car che invece ha rimesso tutto in gioco e di conseguenza per gli ultimi 10 giri di gara abbiamo avuto dei duelli interessanti sia per la prima posizione tra Verstappen e Leclerc sia per il podio tra Sainz e Perez poi Perez in realtà sbaglierà in un ingresso scellerato in curva 1 ha tentato un numero da circo il pilota messicano che non gli è riuscito il messicano blocca le ruote anteriori alla fine Sainz concluderà a podio la lotta c'è stata ovviamente anche per la vittoria ma è stata una lotta platonica perché appena Max Verstappen è arrivato al di fuori della zona del DRS il pilota olandese ha impresso il ritmo che comunque aveva già dimostrato in questa gara di Miami e vince la seconda gara consecutiva la ventiduesima della carriera e di nuovo suona Helt Wilhelmus l'inno nazionale olandese è una vittoria dal mio punto di vista meritata per Verstappen perché nel primo stint ha dimostrato di essere superiore alla Ferrari e soprattutto a Leclerc che è il suo diretto contender per questo titolo del mondo per quanto riguarda invece lo stint con le gomme dure evidentemente Ferrari e Red Bull erano alla pari quindi evidentemente è logico dare una vittoria ai punti a Verstappen Safety Car che stava un attimo combinando le carte perché evidentemente Leclerc si è trovato a lottare per un titolo diciamo di gara che poteva comunque starci per allungare in testa il mondiale e a momenti il pilota monegasco era riuscito evidentemente a mettere fastidio a Verstappen complice però un secondo settore dove la Red Bull andava meglio e una velocità di punta sul rettilineo che è ancora una volta superiore alla formazione austriaca alla fine il podio è quello che era preventivato dopo il primo stint di gara quindi primo Verstappen, secondo Leclerc e terzo Sainz quindi due Ferrari sul podio ma vince ancora una volta il pilota olandese che dà comunque prova che il momentum per usare proprio un termine statunitense nello sport è proprio a suo favore e adesso vediamo il perché dico così perché è seconda vittoria consecutiva per Verstappen entrambe con giro veloce il pilota olandese sale a quota 85 punti è un distacco che è ancora incredibile perché parliamo di 21 punti ma è evidente come Verstappen sia più on fire mentre in questa gara, nelle ultime due gare meglio Leclerc in un modo o nell'altro abbia dovuto limitare i danni qui per una evidente diciamo carenza di passo gara nel primo stint a Imola invece per un errore suo alla variante Gresini comunque Leclerc rimane il leader del campionato del mondo con 104 punti e appunto Verstappen è in rimonta a 85 strano che la Red Bull sia arrivata al traguardo perché nelle gare dispare abbiamo visto come il motore della Red Bull abbia dato problemi un problema che in realtà c'è stato a Sergio Perez che era in lotta comunque per il podio era veramente vicino a Carlos Sainz a un certo punto da un distacco di tre decimi il pilota messicano si ritrova inspiegabilmente a 5 secondi bellissimo il murretto della Red Bull che dà la colpa dell'aver perso la scia Perez che in realtà dice no ragazzi state prendendo un abbaglio è il motore e infatti si è visto che Perez era finito dopo la musica Perez poi non riuscirà di fatto a conquistare il podio ma è comunque un'altra buona prestazione per il pilota messicano che comunque questa volta viene battuto da Carlos Sainz che dopo gli 0 di Imola per colpe non sue e di Australia stavolta per colpe sue fa il terzo podio quando è arrivato al traguardo per comunque una discreta prestazione anche se probabilmente in condizioni normali secondo me Perez avrebbe potuto meritare il podio in questa situazione passiamo adesso agli altri piazzamenti e poi in generale le considerazioni su questo GP di Miami nonché ai premi di driver e delusione del giorno quinto è George Russell che in un modo o nell'altro si ritrova anche una volta quinto in una gara clamorosa Russell è uno di quelli che ha beneficiato della safety car perché a differenza degli altri che sono partiti con gomme medie il pilota inglese è partito con le gomme dure e si è fermato molto più tardi rispetto agli altri in qualche modo la safety car lo aiuta e incredibilmente anche una volta Russell finisce davanti a Lewis Hamilton un Lewis Hamilton che comunque questa volta fa una gara onesta molto più rispettabile rispetto all'indecente gara di Imola dove è finito a tredicesimo è comunque un Hamilton che già in qualificazione su questo circuito si è trovato meglio non ha fatto evidentemente il salvataggio dei danni come in Bahrain è evidente come la Mercedes sia nettamente la terza forza in generale in alternanza con la McLaren probabilmente le due scuderie si cambiano un po' di ruolo la volta scorsa la McLaren era palesemente terza forza con Norris in questo caso Russell e Hamilton hanno fatto una bellissima gara mentre la McLaren molto male insomma c'è lotta per le posizioni fuori dal podio mentre per il podio abbiamo già capito dopo 5 gare che sarà un duello Verstappen contro Leclerc se lo giocheranno ogni singola gara e per il podio se lo giocheranno verosimilmente Sainz e Perez con qualche inserimento qui e lì se non succedono cose strane dopo 5 gare possiamo già azzardare che sia un campionato abbastanza indirizzato settima posizione per Valtteri Bottas che da quando è andato in Alfa Romeo dimostra anche una volta di essere un pilota veramente ed essere un pilota sul pezzo un pilota che comunque trattirà anche davanti alle Mercedes e dopo una qualificazione buona difende una ottima settima posizione straordinario Gualtiero percosse assolutamente ottava posizione è per Esteban Ocon per un Alpine che si risolleva per una volta entrambe le formazioni riescono a fare una gara anche questa decente sempre per le posizioni che non contano però comunque sono punti importanti per il campionato del francese compagno di squadra di Fernando Alonso che in realtà mancherà i punti non a posizione Alexander Albon per la seconda volta in zona punti in tre gare addirittura non il pilota anglo-tailandese gara straordinaria nel suo piccolo per Alexander Albon chiude la zona punti Lance Stroll che partiva dalla pitlane per un Aston Martin che ha buttato nel cesso una qualificazione molto interessante perché uno partiva a metà classifica l'altro Vettel partiva in Q3 per benzina insufficiente entrambe le vetture verdi sono finite di fatto a partire in pitlane Lance Stroll in questo caso fa una gara straordinaria per le sue ridicole ridotte potenzialità e di conseguenza decima posizione per quanto riguarda il pilota canadese che dunque finisce a punti per la seconda volta consecutiva segno che comunque è in crescita il numero 18 per un GP di Miami che ripeto non ha dato una gara eccezionale abbiamo visto ancora una volta la gara di Imola in piccolo io la gara di Imola l'ho vista dal vivo e le sensazioni erano sicuramente diverse in televisione la gara di Imola non mi era piaciuta perché in ogni caso è stata una gara abbastanza monotona perché le uniche lotte erano con Hamilton che non riusciva a passare a Gasly per la quattordicesima posizione qui i distacchi erano contenuti Verstappen non ha dato 20 secondi al secondo classificato ne ha taci soltanto 7 c'è stata una safety car che a Imola non c'è stata va detto che però è una gara fotocopia cioè un lungo trenino di piloti che faceva fatica a superarsi qui probabilmente perché il circuito era inedito e quindi nessuno lo conosceva e non ci avevano preso molto le misure mi viene da dire però è evidente come è due gare che vediamo gare tutt'altro che eccezionali nonostante le prime tre fossero state molto belle certo sono 23 gare in tutto e non possiamo aspettarci 23 gare bellissime che si decidono in volata all'ultimo giro con gente che si butta fuori però onestamente la gara di Miami non mi è piaciuta nel suo svolgimento detto che comunque il circuito non mi dispiace lo ritengo superiore a circuiti veramente orrendi e tremendi come per esempio Monaco e Singapore che peraltro uno di due lo vedremo dopo il Gran Premio di Barcellona comunque vedremo Miami è un circuito che a differenza magari di altri cittadini come per esempio anche Sochi che non è eccezionale potrei tenere perché comunque è un circuito che potrebbe prestarsi comunque a gare più spettacolari sempre se magari i valori potessero essere un pochino più vicini e non con due fenomeni che fanno un altro sport e che ha malapena lotta tra di loro e con gli altri che ogni tanto fanno delle lotte ma di sorpassi va detto a Miami ce ne sono stati veramente veramente pochi Miami è un po' la monaco del continente nordamericano e un po' è vero perché hanno fatto più notizie i VIP che erano presenti a Miami che la gara in sé che ripeto non è stata essenziali anzi praticamente tra gli ultimi dieci giri è stata una gara piuttosto noiosa dal mio modesto punto di vista passiamo adesso ai premi quindi driver del giorno e delusione del giorno abbiamo fatto le lodi a Verstappen con un grande primo string abbiamo fatto le lodi a un Sainz che si è riscattato ma il mio driver del giorno è il thailandese Alexander Albon perché con una Williams che è ancora una volta la macchina più inferiore anche se non si dice in italiano del circuito della Formula 1 arrivare a punti per la seconda volta in tre gare è veramente un'impresa in Australia il thailandese si è fatto un capolavoro strategico fermandosi all'ultimo giro con 50 giri di gomme dure ancora una volta qui la strategia lo premia anche delle penalizzazioni che in realtà sono arrivate per dei contatti nel finale di gara ma comunque ha stato bravissimo a trovarsi lì ed ha la dimostrazione come Williams sia lui il primo pilota a differenza di Nicholas Altifi ancora una volta finito after the music chi invece delude e non poco è Mick Schumacher perché ancora una volta il figlio di Michael è veramente ancora una volta finito after the music a sto giro per colpe sue perché Mick Schumacher è protagonista anche di un contatto appunto a fine gara che appunto rovina la gara di Sebastian Vettel Schumacher è vero che l'anno scorso non è da giudicare per via di una Haas molto inferiore qui però la macchina c'è e abbiamo visto come Kevin Magnussen che ripeto è uno che non correva da un anno abbia fatto cose straordinarie con la stessa macchina Schumacher è lì da due anni questo è il secondo e dovrebbe essere comunque sulla carta più forte e importante di Magnussen per quanto Magnussen sia il mio idolo assoluto e mi stia stra simpatico però è incredibile come anche una volta Schumacher Junior sia inconsistente l'abbiamo dimostrato anche una volta in questa gara dell'illusione probabilmente di questa prima parte di stagione oltre che dell'anno ed è oltremodo evidente che Schumacher sia lì in quanto opzionato Ferrari e per il nome che porta più che per le qualità di pilota Schumacher non è un talento puro intendo Schumacher Junior ovviamente non vale neanche un quinto del papà e ha vinto il cambiato di Formula 2 per piazzamenti e con una macchina non perfetta si vede come evidentemente Schumacher Junior faccia molta fatica in ogni caso vedremo se sarà in grado di riscattarsi già nel prossimo GP che sarà a Barcellona il 21 e 22 maggio nel circuito del Montmelò parentesi velocissima perché anche a Miami c'è stata una serie di supporto che ha appunto dato una mano allo spettacolo della Formula 1 e della W Series che ha esordito a Miami nelle prime due gare stagionali e la W Series per chi non la conoscesse è la Formula 3 femminile con una e una sola pilota da battere ovvero l'inglese Jamie Chadwick che è la bicampionessa regnante di categoria che doveva salire in Formula 3 generale per questa stagione alla fine è rimasta in Formula 3 femminile per vincere il titolo ed è pronti via due vittorie e 50 punti per colei che fa risuonare ancora una volta God Save The Queen e di conseguenza è un'indiziata se non probabilmente la donna da battere in questo campionato monomarca Tatus F3 con delle macchine molto primordiali mi verrebbe da dire senza DRS ma comunque sono state gare più avvincenti della Formula 1 perché in tutte le due le gare all'ultimo giro gente che si buttava fuori testa a coda e posizioni perse ma alla fine il copione non cambia Jamie Chadwick la vince in un modo o nell'altro il primo podio lo completano l'altra britannica Jessica Hawkins e terza è l'olandese Bejke Wisser che è una delle grandi esperte di questa categoria in generale delle Formula 3 Jamie Chadwick vince anche gara 2 seconda è un'altra britannica Alice Powell che è una delle contendenti a contendere appunto il titolo a Jamie Chadwick insieme alla finlandese Emma Kimmelainen che però è stata speronata in gara 1 ha fatto un altro errore in gara 2 ed è finita quinta Powell invece ha fatto uno 0 pesante in gara 1 e si riscatta in gara 2 e per il podio invece abbiamo Nerea Marti che appunto era partita in pole position in gara 1 e alla fine trova un podio importante e di conseguenza primo podio anche per la Spagnola che con questa prestazione è al secondo posto in questo campionato campionato che vedrà 8 gare in totale con appunto Barcellona Francia Ungheria Suzuka Austin e 2 gare del Messico per un campionato molto più worldwide molto più internazionale che sarà comunque interessante da vedere perché è importante che ci siano anche delle pilote donne che cercano di fare la scalata verso le categorie maggiori al momento la pilota donna più competitiva fu Tatiana Calderon che arrivò in Formula 2 qualche anno fa vedremo se tra queste 18 pilote ci sarà la possibilità di arrivare evidentemente in Formula 1 un domani Jamie Chadwick lo dico è un bel talento e mi auguro di vederla in Formula 3 il prossimo anno Formula 3 generale con i maschi e vedremo come si sviluppa anche questo campionato che appunto tornerà insieme alle altre categorie tra due settimane questa invece dunque è la Formula 1 che si ferma e lascia questa classifica dopo il GP di Miami e di conseguenza su questo vi lascio e vi invito a farvi sapere le vostre opinioni in un commento qui sotto il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video